Nella seconda epistola Seneca parla della lettura che giova, la riflessione si innesca sui libri che noi leggiamo, spesso le persone comprano in maniera frenetica, accumulano libri su libri che poi magari non hanno neanche il tempo di leggere e in effetti è quello che succede, ci riempiamo la vita dice Seneca di cose, di oggetti, accumuliamo ricchezze, desideriamo sempre di più ma da una parte non cogliamo l'attimo, non c'è più il carpe diem perché o siamo schiavi del nostro passato oppure siamo mentalmente proiettati verso il futuro e non viviamo più l'attimo presente, non ce lo gustiamo e non lo godiamo più e dall'altra parte quindi riempiamo la nostra vita di oggetti materiali, accumuliamo ma in realtà non possono sostituire i nostri bisogni interiori, quei vuoti affettivi, quelle mancanze perché un genitore è assente, perché un figlio è lontano, perché la fidanzata non è presente, insomma per vari motivi tutti questi vuoti non li possiamo colmare con degli oggetti, con dei beni materiali, sono due necessità completamente diverse e questo non significa che Seneca condanni la ricchezza assolutamente, infatti vedremo che alla fine il vero saggio è colui che si fa bastare ciò che ha, quindi non ricerca il superfluo, tutto quello che esula dalla necessità e dal bisogno è un sovrappiù, è qualcosa che non è necessario possedere, che se io ho posso comunque goderne ma non è più indispensabile e in queste sue parole poi sentiremo anche quelle di Cristo effettivamente, ma è interessante come inizia appunto la lettera, tu non vai qua e là né ti agiti cambiando continuamente luogo, questa irrequietezza è propria di uno spirito malato, egri animi, istai actatio est, quindi notiamo subito la malattia, l'irrequietezza, l'essere continuamente in affanno, in angustia, è un sintomo di un disagio, non riusciamo più ad annoiarci, ci terrorizza l'inoperosità, quando siamo senza impegni subito andiamo in panico, non siamo più capaci di riservarci un'ora per noi stessi, per riflettere, per meditare o semplicemente anche per il puro piacere di stare un po' da soli con noi stessi, a molte persone la solitudine fa paura, spaventa, non la solitudine perché ci mancano delle amicizie, ma quella in cui dialoghiamo con noi stessi quando ascoltiamo la nostra voce interiore e io considero come primo indizio di un animo equilibrato il saper restare fermo e raccolto in se stesso, in animo fideliter sedeat, rimanere seduti nell'animo, cioè bastare a se stessi essere fermi nelle nostre idee, nelle nostre convinzioni, cioè il vero saggio è tranquillo, ricerca la tranquillitas, la serenità, la pace interiore, quindi tutto ciò che succede di fuori di me non mi deve più turbare, non mi tange e non mi preoccupo più di quello che accade perché come abbiamo detto nella lettera precedente non siamo più dipendenti, non dobbiamo più subire le parole degli altri, non dobbiamo permettere che gli altri ci possano fare del male. Vada inoltre che in codesta lettura di molti autori e di libri di ogni genere tu non vada vagando dall'uno all'altro, devi acquistare dimestichezza con autori scelti e nutrirti di essi se vuoi trarne qualcosa che rimanga stabilmente nell'animo e questa è una massima importantissima. Nusquam est qui ubi est, quindi colui che è dappertutto in realtà non è da nessuna parte. Vitam in peregrinazione exigentibus hoc evenit ut, multa auspizia habeant nullas amicizias. Chi passa la vita in un continuo vagabondaggio troverà molti ospiti ma nessun vero amico e qui fa un parallelismo con la vita quotidiana. Coloro che accumulano centinaia e centinaia di libri che vorrebbero riempire tutta la casa insomma di volumi sono paragonati a quelle persone che continuamente cambiano luogo, passano da un posto all'altro, che viaggiano in continuazione, che non riescono a mettere le radici da nessuna parte, che non si identificano in nessun luogo ma queste persone pur sì incontrando moltissima gente, facendo le più svariate esperienze di vita che sono anche importanti ma di fatto non entrano in empatia, in contatto con nessuno, non diventano veramente amici. Infatti moltissime delle attuali conoscenze non sono appunto altro che conoscenze, non sono altro che incontri superficiali. Viviamo nella società liquida, come dice Zygmunt Bauman, una società in cui tutte le relazioni, gli affetti, gli incontri rimangono al sicuro sulla superficie, non siamo più disposti a farci coinvolgere, a metterci in gioco e a permettere anche i nostri sentimenti e la nostra emotività di entrare in profondità, quindi di entrare veramente in contatto con l'altro. Il vero incontro, quello con la I maiuscola, non esiste più. Viviamo di contatti ma non di veri incontri. Gli incontri reali ci spaventano, preferiamo essere nascosti dietro uno schermo a quel medium, il cellulare, che ci fa proprio da protezione. Siamo talmente abituati a vivere in questa barriera che non siamo più capaci di guardarci negli occhi. Gli incontri face to face non esistono più, non ci sono più perché abbiamo proprio anche paura di essere giudicati ed è questa la cosa più terribile. Quelli che accumulano centinaia di libri in realtà che cosa fanno? Passano tutti i giorni da un autore all'altro, le giucchiano qualcosa ma in realtà non rimane nulla poi nella nostra anima. E qui c'è un'altra idea, il concetto che l'arte nutra lo spirito, la letteratura, l'arte, la poesia, nutrono lo spirito, ci edificano, fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire vertute e canoscenza. Ecco la chiave, cioè devo ricercare negli autori qualcosa che mi possa aiutare, che mi possa accompagnare nel lungo percorso della vita, che mi possano insegnare qualcosa, che mi possano consigliare qualcosa o che mi avvertano di non fare qualcos'altro. Quindi veramente dobbiamo trarre insegnamento dagli antichi e da coloro che ci hanno preceduti perché sono dotati di maggiore esperienza rispetto a noi. Quindi quando sentite che la filosofia non serve va eliminata, il latino che cosa serve una lingua morta via, la letteratura che cosa serve è inutile ma come diceva Oscar Wilde l'arte deve essere inutile, non deve generare un profitto altrimenti diventa serva del potere e qua abbiamo il rischio di non pensare più, di non sviluppare più il nostro spirito critico. Quindi quando sentite queste frasi in realtà è perché queste persone non hanno colto il valore di queste discipline, mai come oggi abbiamo realmente bisogno invece delle discipline umanistiche perché stiamo perdendo il contatto con la realtà. Guardate i telegiornali, leggetti i giornali, una persona si ammazza per un parcheggio, un ragazzo dà fuoco a una ragazza perché l'ha lasciato, non abbiamo più quegli incontri umani, l'empatia, il vero incontro, viviamo di contatti non di incontri. Ecco perché stiamo andando a finire in questa maniera qua, ecco perché gli autori latini servono la letteratura latina, non solo la lingua, andrebbe inserita in maniera obbligatoria in tutte le scuole perché dobbiamo recuperare l'humanitas, l'umanità, quel concetto veramente ampio di cui poi parleremo che ci insegnano gli antichi. Abbiamo perso i valori, i valori veri, quelli fondanti, i pilastri della società occidentale non esistono più, ecco perché io andrò sempre a prendere in mano l'Odissea, la Divina Commedia, le Epistule a Delucilium, servono perché dobbiamo recuperare la nostra umanità, siamo esseri umani che devono tornare però ad essere umani perché l'abbiamo persa, così è necessario che capiti a chi non si applica con assiduità allo studio di nessun autore ma tutti li scorre in fretta, niente impedisce tanto la guarigione quanto il cambiare spesso i rimedi, quindi colui che continuamente passa da una cura all'altra se ha una malattia sicuramente non riuscirà ad uscirne, non potrà curarsi perché cambiando continuamente medicina possiamo solo ulteriormente danneggiare il nostro corpo e questo vale anche per la cultura e per le letture, non arriva a cicatrizzarsi la ferita se si provano varie medicature, appunto non cresce vigoroso l'albero che è spesso trapiantato, quindi vedete il parallelismo tra la natura e l'essere umano, cambiare continuamente luogo in realtà non serve assolutamente a niente, il vero saggio è colui che fideliter in animo sedeat, quindi devo rimanere fermo, devo avere dei punti di riferimento, quindi chi dice che la letteratura non serve è perché non ha colto il valore della parola della letteratura, la parola educa, la parola nutre, la parola salva, come stiamo vedendo nel percorso del Decameron, la parola può salvare una vita umana e ci può far recuperare quel briciolo di umanità che ancora abbiamo, se lo perdiamo basta, diventiamo peggio delle bestie, veramente diventerà la società paventata da Thomas Hobbes, homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'uomo e ci stiamo andando, perciò se non ti è possibile leggere tutti i libri che potresti avere, basta che tu abbia i libri che puoi leggere, quindi è inutile questa ricerca affannosa, non serve assolutamente a niente. Quindi se non puoi averli tutti, bada di possedere soltanto quelli da cui potrai trarre realmente un giovamento e questo che cosa ci sta dicendo? Che è inutile come facciamo oggi essere bombardati da centinaia e centinaia di informazioni diverse, di oggetti diversi, bastano poche cose, ma quelle poche cose vanno coltivate, vanno nutrite, soltanto allora avremo una certa stabilità e una certa anche dose importante e necessaria di valori, di ideali a cui tendere, non possiamo perseguirli tutti individualmente, quindi ognuno dovrebbe perseguirne alcuni e tutti insieme, quindi costruire una società migliore, ma tu dici a me piace sfogliare ora questo volume, ora quello, assaggiare qua e là è proprio di uno stomaco viziato e troppi cibi diversi non nutrono ma rovinano l'organismo, perciò leggi sempre i migliori autori e se talvolta vuoi passare ad altri torna poi ai primi, cerca ogni giorno nelle letture, ecco qua il passo importante, un aiuto per sopportare la povertà e per affrontare la morte e tutte le altre sventure umane, quindi la letteratura non soltanto nutre ma ci accompagna, diventa quel faro per poter affrontare i problemi, perché ricordatevi che i problemi si affrontano, non vanno ignorati, non vanno elusi, non possiamo far finta che non esistano, bisogna affrontarli prima o dopo, se c'è un problema non mi giro dall'altra parte, se ho una difficoltà non devo medicalizzare tutto, andare avanti come se niente fosse, i problemi vanno affrontati, vanno forniti gli strumenti per superare gli ostacoli, il vero docente, e qua poi entreremo in un altro campo, non è colui che rimuove gli ostacoli, è colui che dà la mano e accompagna l'alunno, lo studente, il discepolo a superare da solo quei gradini e lo accompagno con tutti gli strumenti del caso, è diverso, è un approccio completamente diverso, perché anche lì la vera inclusività è andata persa o forse non è neanche mai stata applicata, eccoli qua, probato sitaco e sempre legge, sempre legge probato, se leggi sempre i libri probi, cioè gli onesti, quelli carichi di valori, quelli importanti, gli autori migliori, la letteratura, la cultura, le materie umanistiche che possono salvare una vita umana dalla depressione, possono accompagnarci in un momento di difficoltà, durante il lockdown, in questo periodo di covid, quanti hanno riscoperto il sapore, il gusto della lettura, quindi la lettura, i libri ci fanno compagnia, quindi ci eliminano la solitudine o ci arricchiscono la solitudine, la solitudine sana è quella in cui il vero saggio basta a se stesso, vindicate tibi, sii padrone di te, non dipendere dagli altri, quindi certo che io posso avere le amicizie, posso conoscere nuove persone, ma quando sono da solo non vado in tilt, non vado in crisi, non mi deprimo, perché ho anche bisogno di riflettere, di avere dei miei momenti per me stesso e di ascoltare il mio io interiore, dobbiamo tornare anche a dialogare con noi stessi, è per questo che spesso siamo impulsivi, perché prima agiamo e poi riflettiamo e creiamo un danno enorme. Dopo aver letto molto, scegli un pensiero che tu possa assimilare in quel giorno, anch'io faccio così, del molto che leggo prendo sempre qualcosa, questa ad esempio è la massima di oggi che ho trovato in Epicuro, ecco spesso Seneca legge anche altri filosofi, altri autori e da tutti cerca di trarre un insegnamento, quindi anche qui non dobbiamo ascoltare soltanto la nostra campana o coloro che la pensano come noi, ma dobbiamo andare in cerca e ascoltare anche le idee e i punti di vista degli altri, accettare e conoscere gli altri modi di guardare e di leggere la realtà ci arricchiscono comunque, poi uno può non condividere ma almeno conosce, perché conoscere è il primo passo per accettare l'altro, perché se io non conosco non posso accettare, ecco il rifiuto, ecco la vera xenofobia, lo xenosse, lo straniero, è proprio colui che non conosco e che ritengo diverso proprio perché non ho gli strumenti per comprenderlo. È una bella cosa, dice Epicuro, la povertà accettata con animo lieto, ma se è bene accolta non è più povertà e qui dice Seneca, è povero non chi possiede poco ma chi brama avere di più. Non qui parum abet sed qui plus cupit paupereste. Qui sembra proprio di sentire anche Gesù Cristo, che senso ha accumulare tutto il mondo, quindi diventare il padrone dell'intera umanità se poi l'uomo perderà se stesso, quindi qual è il senso dell'accumulo? Il vero saggio non è colui che disprezza la ricchezza, attenzione, lui dice è colui che desidera sempre di più, perché in questo stato di desiderio, di brama inestinguibile, l'uomo è concentrato sul futuro, su quello che deve ancora fare, ma per accumulare non vive più l'attimo presente, quindi consuma l'intera esistenza inutilmente. Pensiamo al povero Mazzarò, pensiamo al Mastro Don Gesualdo, tutta la vita passata ad accumulare, immense distese di terre, di campi e alla fine della loro vita che cosa hanno fatto? Mazzarò esce fuori, bastona le anatre perché vorrebbe portarsi via tutta la sua roba, vedremo la religione della roba e Mastro Don Gesualdo alla fine della vita muore solo, isolato, privo di affetti, muore di tumore e tutto quello che ha accumulato rimane qui sulla terra. Che conta quanto uno abbia nella cassaforte o nei granai, ecco ancora l'allusione anche alle parole di Cristo, quanti armenti abbia al pascolo o quanto gli rendano i crediti, se pensa sempre alla ricchezza altrui e fa calcoli non su quello che possiede ma su quello che vorrebbe acquistare, mi chiedi quale sia il giusto limite della ricchezza, avere anzitutto l'indispensabile, poi ciò che basta, addio. Ecco il vero saggio quindi si fa bastare ciò che possiede, ricerca il necessario, non il superfluo, ecco la società liquida, è l'esatto contrario, viviamo in una società che ci propone il contatto, non l'incontro vero reale ma soltanto nascosti dietro uno schermo, viviamo in un'epoca in cui il consumismo domina imperante e sono notato da tutti, accettato dal gruppo e sono migliore soltanto se possiedo sempre di più, devo avere sempre l'ultimo vestito firmato, l'ultima borsa firmata, l'ultimo telefono che è appena uscito, altrimenti non sono nessuno, come se il valore di una persona si potesse misurare dai suoi averi e non invece dai suoi ideali, dai suoi valori e dalle sue reali capacità interiori. Cosa ci dirà più avanti Seneca? Il vero saggio è colui che si prepara sempre alla povertà estrema, cioè come se dovesse perdere tutto da un momento all'altro, perché? Perché così nelle avversità sarà in grado di affrontarle, di rimanere sempre presente a se stesso, autonomo e non dovrà quindi mai dipendere dagli altri. Il vero saggio è colui che sceglie con cura poche amicizie ma le coltiva, seleziona pochi autori, pochi libri ma li assimila, li studia in profondità e si nutre dei loro insegnamenti e soltanto in questo modo poi potremo metterli in pratica e applicarli. Siamo talmente bombardati da tutte le parti, da queste notizie, che l'uomo entra in crisi e non sa più né in chi ma soprattutto in che cosa credere e tutti i valori, tutti i capisaldi di riferimento vengono annichiliti, vengono polverizzati. Coloro che ci hanno preceduti ci stanno ricordando come dei monumenti immortali che stiamo sbagliando tutto, che stiamo andando verso una società che è l'esatto contrario di come dovrebbe essere e ne vediamo poi gli effetti usando un'immagine biblica per riconoscere se i pastori che ci guidano sono veramente dei buoni pastori, li riconosceremo dai loro frutti, giudicate voi se i frutti sono dolci oppure se sono marci.